E non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Can you hear the three windows? Parleremo nel video di oggi, ragazzi, del ban di Ninja. Vi farò sapere quello che è successo durante l'evento di ieri, il riscaldamento alla World Cup. Quello in poche parole che ho giocato anche io in coppia in live. Parleremo anche, ragazzi, di alcuni dettagli incredibili della patch 8.30 e nello specifico del video quello che vi avevo mostrato ufficiale che parlava appunto del nuovo veicolo di RESPAWN. Ci sono dei dettagli, ragazzi, davvero incredibili e ovviamente un'altra cosa relativa ai leaks. La modifica di alcune voci nell'armadietto e l'inserimento di alcune cose, oggetti e anche emot super super interessanti per il nostro battle royale. Però ne approfitto per ringraziarvi, ragazzi, tantissimo per utilizzare il mio codice creator, XIUDERONE. Grazie di cuore, ragazzi, per il mega supporto. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima, ragazzi, eh dai! La domandina, raga, ve la devo fare! La domandina ed è una domandina che è molto molto facile, ragazzi. Quanti punti avete fatto nel torneo di ieri? Ovviamente chi ci ha partecipato? Sono troppo curioso di saperlo, ragazzi. Noi, io e il mio amico, ne abbiamo totalizzati 22. Non tantissimi, sinceramente. Però voglio troppo sapere quanti ne avete fatti voi. Mi raccomando, qua in descrizione, commentate con il vostro punteggio. Ma quindi, ciancio alle bande e vado alle ciance, due secondi, ragazzi, li spendiamo appunto per parlare un attimo di quello che è successo ieri. Quindi sono state fatte le qualificazioni, le qualifiche dalla semifinale alla finale di oggi del torneo. Quindi una prova per le World Cup in coppia. Vi ricordo che c'è stato, ragazzi, un regolamento ufficiale che dovrebbe essere anche, ovviamente, mantenuto per il torneo di oggi. Vittoria reale sono tre punti. Raggiungiamo la top 15, sono tre punti. La top 10, due punti. La top 5, due punti. E ovviamente ogni eliminazione un punto. Ho guardato anche, ragazzi, le classifiche per vedere appunto le 1500 coppie che si sono qualificate. Indicativamente dovreste aver fatto 64 punti. Se avete fatto più di 64 punti, siete qualificati al torneo di oggi. Quindi se qualcuno di voi fosse riuscito veramente a farli, i miei grandi complimenti. La coppia che ha fatto più punti ne ha fatti 123. Quindi, GG, davvero tanta tanta roba. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di quello di cui vi anticipavo. Questo inizio video. Il signor Ninja, lo conosciamo tutti, sappiamo tutto chi è. Non devo spiegarvi niente. È successo un casino durante le World Cup. Durante appunto il torneo di cui vi ho appena parlato. Voglio farvi vedere però un video in modo che poi spiego un attimo quello che è successo. Eccolo qua il video, ragazzi. Questo signore che vedete è un giocatore del team Liquid. Nello specifico Liquid Poch. Vi faccio vedere cosa succede. Lui sta giocando. C'è Ninja dall'altra parte che comincia ad attaccarlo con un arco. Ok? Quindi adesso gli arriva una freccia violentissima. Gli distrugge prima la base. Poi viene colpito dall'arco. E poi gli arriva un altro dardo violentissimo che lo buttatterà ninja e è là in alto sul bordo del vulcano. E lo killa. Cosa succede? Succede che il suo compagno di squadra, Liquid Chap, non appena muore il socio Liquid Poch, quitta. Da lì, ragazzi, è partito il disastro. Cioè, ha quittato subito, in poche parole. Ninja non ci ha visto più, nel senso, perché dice, diamine, questo mi ha quittato in faccia, in poche parole, ha tolto a me e al mio socio la possibilità di pushare e quindi guadagnarci un punto in più, una kill in più. Da qua, ragazzi, ha fatto una richiesta ufficiale a Epic Games per il ban del giocatore che ha quittato subito dopo che il suo compagno di squadra è stato killato. Ovviamente, ragazzi, non esiste un regolamento ufficiale che vieta il Rage Quit, in poche parole, quindi il quit veloce del compagno di squadra, qualora ti muoia, appunto, il socio. C'è da dire che però si è aperta una polemica non indifferente, anche perché si basa tutto sul fair play, no? Nel senso, mi killano il compagno di squadra, io comunque per fair play provo lo stesso a giocare se mi ammazzano, amen. Qua non c'è stata assolutamente sportività da parte del compagno di squadra che, appunto, ha quittato e voglio sapere, voi cosa ne pensate? Merita addirittura il ban questo giocatore che ha quittato? Secondo voi ha violato qualche regolamento? Oppure non succederà niente? È una cosa molto molto curiosa, voglio sapere quello che ne pensate perché merita davvero una nota di attenzione. Ma andiamo avanti ragazzi ed ecco qua alcuni spezzoni del video ufficiale che vi avevo fatto vedere l'altro ieri mattina se non ricordo male che appunto anticipava l'arrivo del van del respawn van nella patch 8.30 quella di settimana prossima. Come vediamo ragazzi guardate in fondo a questa immagine a questo fotogramma si vede chiaramente che è iniziata la gli scavi vicino a sponde del saccheggio ve lo faccio vedere un pochettino più zoomato guardate che storia ragazzi riconoscete sicuramente sulla sinistra una delle pietre del vecchio cubo la più indietro insomma dove ci sono le ruspe in questi giorni si vede proprio il sito di scavi che secondo me potrebbe proprio essere quello fatale per l'arrivo della skin rovina ma non è l'unica cosa curiosa in quel video ragazzi il grande grandissimo ritorno del testone tomatone grande zio che arriva ragazzi a completare il ristorante a corso commercio abbiamo visto che nella patch precedente è stato inserito il secondo piano e da queste immagini si vede proprio come arriva finalmente dopo tantissimo tempo di nuovo il ristorante completo come era una volta a tomato town per chi se la ricorda bellissima come city e l'ultima cosa mega interessante ragazzi oh ci hanno un occhio questi cinesi ragazzi io non ci avrei mai fatto caso non so come abbiano fatto a vederla guardate questa è un'altra sempre un altro fotogramma del video ufficiale questi qua hanno visto che nel distributore che è stato che c'è lì a pinnacoli il distributore blu raga c'è una minigun blu quindi la domanda è secondo voi faranno una modifica alla minigun tolgono la versione leggendaria e inseriscono la versione rara potrebbe essere lì di certo c'è una minigun blu quindi non si sa ragazzi bene che cosa se sia veramente una roba che arriverà però è lì potrebbe arrivare nella patch 8.30 cerchiamo di ricordarcelo per quando arriveranno le patch notes ufficiali ma andiamo avanti ed eccolo qua ragazzi intanto il tweet ufficiale di epic games che dice che il robot van arriverà nell'update 8.30 quindi confermano il suo arrivo e chiudo molto velocemente ragazzi parlandovi di questo tweet sono 5 nuovi oggetti che verranno aggiunti su fortnite quanto prima per adesso vi faccio vedere solo il tweet magari domani vi faccio vedere qualcosa di più visto che non abbiamo più tempo arriveranno i cappelli arriveranno il taunt sarebbe lo schernire cioè l'emote che dovrebbe partire automaticamente quando facciamo vittoria reale un'altra emote che è la victory pose quindi proprio quella per la vittoria le calling card non chiedetemi che cosa siano e addirittura la personalizzazione del battle bus per adesso ragazzi non vi dico altro perché voglio anch'io informarmi un po' di più però vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su codice creator xiu derone noi ci vediamo alle 8 e mezza in live in arena ciao 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 Grazie a tutti.